Il sottosegretario allo spettacolo onorevole Ermini assisterà in una sala milanese alla prima della Valigia dei Sogni, una riesumazione presentata dal critico Arturo Lanocita, delle più celebri sequenze dei nostri vecchi film, dal primo giro d'Italia a Capiglia. E adesso l'Avvocato Villa e Monsieur Languas illustrano a Ermini la mostra della Cineteca francese esposta per il cinquantenario del cinema. Il fucine fotografico con cui nel 1982 Maree riprendendo 10 immagini al secondo dava questa cronofotografia allora strabiliante dell'uomo in corso. Poi vennero le macchine da presa, i fratelli Lumière e allora avanti, il cinema scopriva le sue varie vocazioni. Questa giumba anticipa Ridolini, i cartelloni ricordavano lo stile L'Oreale, soggetti e sceneggiature, in principio anche per il cinema e la parola scritta, le vive si annunciavano con una mimica Liberti. Pina Menichelli, brilava l'imboritore, in un nuovo colosco dell'arte muta. Un modo di dire col muto, dammi una sigaretta.